Siamo con i due protagonisti assoluti della vittoria di questa sera, una vittoria storica che porta il Pescara per la prima volta nelle Final Four di UEFA Futsal Cup. Una emozione e una soddisfazione fortissima. Sono con Antonio Capuozzo e Titti Borruto, detto il Cobra, che veramente sono stati, come ho detto prima, due protagonisti eccezionali di questa impresa. Antonio. Sì, abbiamo fatto noi la nostra parte, ma tutta la squadra siamo stati questa sera incomiabili. Penso che dopo il risultato dei Macedoni ci siamo guardati negli occhi, nello spogliatore, abbiamo capito che questa partita doveva essere nostra, perché stavamo ad un passo nella Final Four, le migliori quattro squadre d'Europa. Era impossibile non fare una partita del genere. Siamo partiti bene, alla fine il risultato penso che sia giusto, abbiamo giocato benissimo. Poi ti ripeto, queste sono partite che le vinci con il cuore, con la grinta, con tutta la squadra, con l'amalgama di tutto. Lavoriamo per questo e dal 28 luglio che siamo in giro, proprio per arrivare a questo obiettivo. Adesso ce l'abbiamo fatta e ci butteremo con la testa il campionato. Ci sarà tempo per pensare al campionato. Titti, due gol veramente importanti, soprattutto il primo dopo che si era incassato una rete di svantaggio. Sì, per fortuna la palla non voleva entrare prima, ma per fortuna è entrato e abbiamo pareggiato subito il gol di loro. Abbiamo pareggiato e abbiamo continuato a pressare perché la partita era troppo in mezzo, era troppo bloccata in mezzo. Per fortuna abbiamo ripreso bene la partita dopo. Prendere e incassare le golle è stato come essere scioccati e ripartire con una rimonta forse la più veloce del mondo. In 22 secondi avete ribaltato il risultato. Avete bisogno di incassare un pugno nello stomaco per ripartire? Sì, speriamo di non fare sempre così, ma sempre dobbiamo soffrire. Ci stanno aspettando tutte le squadre e dobbiamo soffrire così. Tutti si mettono dietro, contrapiede, soffriamo così noi solo. Se no non c'è partita dopo. Antonio, sei stato protagonista soprattutto nel primo tempo. Non solo nel primo tempo, ma soprattutto in questo primo tempo un pochino sofferto da parte del Pescara. Perché? Sì, siamo partiti un po' timorosi nella partita. Siamo partiti così e sono riusciti a salvare in due o tre occasioni che fa parte del gioco. Il portiere sarà per quello. L'importante è prenderla sempre. Però ti ripeto, guarda, questa squadra, ma soprattutto questa società, merita, veramente merita di stare nel posto dove si trova adesso. Perché a noi veramente non ci manca nulla. A noi è una società, secondo me, in Italia non ce ne sono come loro. La famiglia Iannascoli meritano di stare veramente il più alto possibile. E noi faremo il tutto per rimanere là. Titti, tu l'hai giocata a una finale di UEFA Futsal Cup, se non erro, qualche anno fa. Come si fa a vincere questa Coppa? Con la voglia, con la grinta e con il cuore della squadra. Tutti insieme. Senti, per quanto riguarda te, vediamo che la tua condizione cresce settimana dopo settimana. Sei pronto per un finale di campionato, un proseguo di campionato che ti veda finalmente come protagonista di questa squadra? Speriamo, sì. Per fortuna sto, come si dice, cominciando a prendere la velocità del gioco che mi mancava da tempo, che erano sette mesi che stavo fermo. Per fortuna la squadra mi sta dando una mano a prendere fiducia, a fare uno contro uno, tutto, grazie alla squadra. Tu, Antonio, una finale di UEFA Futsal Cup non l'hai ancora fatta. Non diciamo nulla, siamo scaramantici. Penso che l'anno scorso potevo fare la finale di Serie C1. È proprio questo che ti volevo dire. La tua favola continua. Anzi, forse non è più neanche una favola perché è diventata quasi routine. Adesso non è più una favola. Adesso diciamo che è gli occhi di tutti che comunque posso giocare tranquillamente in questa categoria. Però veramente, a volte ripensandoci che vengo dalla Serie C, vincere Scudetto, Supercoppa, arrivare in Final Four di UEFA Futsal Cup, forse se me lo sognavo non ci riuscivo a fare tutte queste cose. Però i sogni mi piacciono, io continuerò a sognare. E questo Pescara continuerà a sognare insieme a Titti Borrutto e Antonio Capuozzo, protagonisti insieme a tutti gli altri di un'impresa grandissima. Grandissima.